Consigliere Pettinari, lei oggi torna a parlare delle periferie di Pescara e di Montesilvano, delle problematiche che affliggono queste zone, tra l'altro ad alta presenza di residenti. Sì, intanto qui ci sono cittadini del Ferro di Cavallo, quindi Rancitelli, Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Rigopiano, Sandonato, Zanni, Borgomarino, anche Via Rimini, Montesilvano, dove c'è stato l'ultimo pestaggio. Ma io vorrei rispondere agli attacchi che sto ricevendo in questi giorni. Prima cosa, qualche giorno fa hanno eseguito uno sfratto nel Ferro di Cavallo. Qualche ora dopo la persona ha risfondato e entrato dentro. Allora, questa cosa vuol dire due cose. Uno, che non è vero quelli che mi attaccano e mi dicono che il governo centrale ha bloccato gli sfratti. Seconda cosa importante è che le persone occupano, poi risfondano, vengono cacciate e risfondano dentro dentro la casa. Quindi io dico a quelli che mi dicono che non è vero che ci sono case che possono essere sfrattate che c'è l'articolo 36 bis della legge regionale 96-96 che impone, grazie a me, perché io l'ho fatto fare questa idea, la pubblicazione sul sito dell'Ater di un elenco di tutte le case occupate in violazione della legge per anni che possono essere sfrattate. Nessuna preclusione da parte del governo. Quest'articolo addirittura, in questo elenco ci sono 13-14 case del ferro di cavallo e poi la signora ci dirà che ce ne sono anche altre che possono essere sfrattate e purtroppo stanno ancora lì e nessuno li ha sfrattati. Cosa ancora più grave, voi vi ricorderete negli sfratti degli ultimi mesi, anche quelli dopo lo sfratto diversi sono rientrati nella stessa zona perché ci sono 100 case, udite udite, vuote, murate, lasciate in abbandono, pronte per essere successivamente occupate da chi viene sfrattato. Si parla addirittura di fare sistemici parchi e quant'altro. I parchi delle zone periferiche sono tutti diventati ricettacolo di dorogati, di tossicodipendenti, quindi se il parco lo fa e poi non lo controlli non risolverai niente. E poi mi si lasci dire, nel famigerato ferro di cavallo, dove ci sono stati omicidi, persone ammazzate, assassini, non ci sono ancora le telecamere. Quindi chi governa il comune dovrebbe pensare, la prima cosa, a mettere sistemi di videosorveglianza. Io chiedo con forza pattugliamenti delle forze di polizia, sfratti di tutti gli occupanti abusivi in violazione della legge penale, oggi ho prodotto l'elenco e soprattutto la riassegnazione immediata dei cittadini onesti perché se al ferro di cavallo, a Fontanella, a Rangitelli, a Via Rigopiano, a Zanni mi togli i delinquenti e mi rimetti dentro le persone oneste. Lì il problema si risolve, una volta per sempre. Questa è una guerra che da parte mia non finisce finquanto. Io ho fatto richiesta di mobilizzazione e ancora non ho visto e sentito niente. Poi hanno dato del demagogico a Domenico e io oggi se sono qua è per dimostrare che Domenico non è affatto demagogico. Perché io vi parlo del ferro di cavallo perché io abito là, posso dire questo. Qui sull'elenco ho notato che non ci sono tutti, assolutamente no, e io me li sono corretti. E se il sindaco lo vuole glieli porto io, perché come sono informata io non era informato nemmeno Domenico. Però non è assolutamente demagogico ciò che dice Domenico. Se adesso mi vogliono dare della demagogica anche a me lo facciano pure, ma non è demagogia. Io ho sempre detto, qualsiasi cosa succede alla mia persona, la colpa è loro, che non mi hanno spostato.